eccoci qua questa settimana parliamo di un fotografo che a me piace veramente molto molto se ne dovessi salvare 5 no tra tutti i fotografi italiani lui farebbe sicuramente parte di questi cinque fotografi sto parlando di eolo perfido eolo perfido è iniziato anche lui a fotografare abbastanza tardi dice intorno ai 30 anni si occupa guardate che meraviglia queste queste immagini fondamentalmente di ritratto c'è una serie che vorrei tanto farvi conoscere si chiama clownville se avete paura e terrore dei clown forse non vi conviene guardare chi mi conosce sa che è uno apprezzo moltissimo e che cerco anche di seguire alcuni sono veramente inquietanti l'uso del colore poi è incredibile veramente stupendo ma in realtà fa anche cose molto più classiche per così è molto elegante io questa immagine io me la ricordo ancora una delle prime sue immagini che ho che che vidi ma ma ripeto tantissimi anni fa appunto su un forum di fotografia pre pre era facebook è ancora uno scatto stupendo tutt'oggi no ma guardate che bellissimo utilizzo della luce fa anche pubblicità si occupa anche di street di computer grafica veramente un fotografo completo fa anche dei workshop quindi potrebbe anche essere un'idea quella di di vedere se fa un workshop che vi può interessare chi lo sa che magari non riusciamo a a organizzare qualcosa anche con direzione ostinata quindi fotografo da scoprire questa settimana io lo perfido spero lo appreziate così come lo apprezzo io e noi ci vediamo la settimana prossima con qualcos'altro di nuovo grazie a tutti grazie a tutti